Una storia, vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare del mafia, il nuovo top uramaki del Monster Sushi di Barcellona, che è il top della gamba mondiale, questo uramaki potremmo trovare mozzarella, stavo dicendo che questo uramaki è composto da un interno di mozzarella, pomodoro secco, un esterno di salmone top, salsa di basilico e oliva, questo uramaki e per giunta si chiama mafia, cioè quasi dà fastidio mangiarlo da volte buono, infatti l'abbiamo lasciato lì, ma non rimarrà ancora per molto, molto il sushi forlato, allora invece adesso vogliamo presentare questo nuovo, siamo giunti all'ultimo Monster Roll, ce do dire che noi ormai veniamo qua praticamente sempre, siamo di casa, questa meraviglia è composta da fragola, fila delfi e tonno, con tonno e caramellizzato tipo crema catalana sopra, c'è una roba di genere, ragazzi è bello figo, ragazzi ci vuole bello figo, comunque con questa meraviglia chiudiamo questa cena devastante a nostro sushi, e questo è un ibrido tra una cheesecake alla fragola e un sushi al tonno, ciao, dai mangialo, mangialo, senza,